Buonasera a tutti, benvenuti a Festa di Scienza e di Filosofia, ottava edizione. Ci scusiamo un po' per il ritardo, ma purtroppo devo comunicare che il professor Boncinelli non sarà presente, ha un piccolo malore che sicuramente supererà e quindi questa sera è presente la dottoressa Anna Mendolesi e quindi la conferenza la farà la professoressa, ma naturalmente essendo autrice di un testo che ultimamente è uscito e si trova in librerie, l'uomo crea l'uomo, è un testo della Bonpiani, edito da Bonpiani, Bollatti Boringhieri, che è un testo estremamente importante, anche il tema che verrà trattato è estremamente importante perché riguarda la genetica molecolare in relazione a quelle che sono le nuove tecniche che sono entrate in funzione negli ultimi sei o sette anni e che consentono di immettere nuovi geni nel DNA, di trasferire questi geni e quindi è una tecnica che praticamente Gen Drive si chiama, rivoluziona un po' quelle che sono diciamo le tecnologie molecolari e che quindi probabilmente potrebbe avere un esito su vari campi applicativi dello scibile umano. Ma ovviamente essendo una tecnica che va a relazionarsi con la molecola del DNA può creare dei problemi anche a livello di popolazione umana e naturalmente questi temi sono trattati sia nel libro della professoressa che anche in interviste. La dottoressa Meldolesi si è laureata in biologia all'Università di Bologna e attualmente è giornalista scientifica, scrive per il Corriere della Sera. Ha ricevuto premi per la sua attività di giornalista e naturalmente in questa grande rivoluzione che stiamo vivendo nel campo della biologia molecolare e poi addirittura si assiste a scoperte continue. Avere una giornalista che tratta di questi temi è estremamente importante perché siamo tutti convinti e sono tutti convinti che l'informazione di base è fondamentale perché saremo chiamati a scelte in una realtà democratica e quindi questi fatti sicuramente incideranno sul nostro futuro. Prima di dare la parola alla dottoressa Meldolesi, naturalmente facciamo gli auguri al professor Boncinelli che si ripristini il più presto possibile, domani abbiamo l'ultima conferenza proprio con il professor Boncinelli, devo leggervi un comunicato che riguarda il professor Roberto Battiston che fa parte del Comitato Tecnico Scientifico, come sapete, della festa e con piacere informiamo che in occasione della festa di scienza e di filosofia è uscito il libro del professor Roberto Battiston, presidente dell'Asi, cioè l'azienda spaziale italiana e referente scientifico di festa di scienza e di filosofia. La meccanica quantistica è il titolo del libro spiegata a chi non ne sa nulla, pubblicato da Castelvecchi, editore, nella collana Irruzioni. E quindi è una collana per chi ha avuto occasione di conoscerla, è estremamente sigua. Io richiamo i libri per chi ha fretta di apprendere qualcosa, quindi in genere sono sempre sui 40, 50, 60 pagine, quindi sicuramente si legge. Il libro verrà presentato domani mattina alle 11.30 verso lo spazio libri Taverna, Rione, Ammanniti, Palazzo Brunetti, Candiotti. Il libro sarà presentato dal professor Silvano Tagliagambe e sarà presente il professor Roberto Battiston. Questa è la comunicazione, un'altra comunicazione, facciamo vedere la bottiglietta, così siamo tutti contenti. Bisogna fare anche questa perché naturalmente tutte queste conferenze che voi vedete è possibile entrare gratuitamente e quindi gli sponsor ben vengano perché altrimenti non avremo questa opportunità. Ecco, questa è l'acqua di Sassovivo e l'acqua minerale per i relatori è fornita dalle fonti di Sassovivo e la storica acqua di Foligno che sgorga dalla grotta dell'Orso nel parco delle fonti di Sassovivo, che è una località che si trova qui sopra a poca distanza da Foligno, imbottigliata fino dal 1930 e tornata fruibile dopo un'assenza di circa otto anni, per cui questa è quanto debbo. Adesso passo la parola alla dottoressa. Grazie per la presentazione, grazie di essere qui. Sono contenta di essere qui a parlare di CRISPR perché questa nuova tecnologia è destinata a rivoluzionare la ricerca nei laboratori scienze della vita, ma poche persone, siamo comuni che non fanno gli scienziati, insomma l'hanno sentita nominare finora, per cui me ne faccio un po' ambasciatrice. Si tratta della tecnologia più in voga per l'editing genomico. L'editing genomico è un nuovo modo di approcciarsi alla modificazione genetica che è un po' diverso dalla classica ingegneria genetica. Anziché prendere e spostare pezzi di DNA, si possono fare anche altre cose, cioè correggere il DNA nella sua collocazione originaria. Proviamo a immaginarci l'isper come una piccola macchina molecolare. Difatti il suo ingrediente fondamentale è una proteina, un enzima. Siccome taglia il DNA è una nucleasi, questa macchina molecolare ha la grande qualità di essere facilmente programmabile, per cui noi possiamo darle delle istruzioni fornendola a una piccola molecola guida di RNA e la macchina molecolare scandaglia il genoma alla ricerca del gene di interesse, della sequenza che noi le abbiamo indicato e lì può effettuare una modificazione. Si usano delle similitudini per far comprendere più facilmente questo concetto. Una similitudine è quella della funzione trova e sostituisci di Word. È come se noi a questa macchina molecolare, a questa proteina, dicessimo trovami la sequenza, adesso da qua non la leggo, TAG e cambiamela in TAA, per cui scandaglia il genoma proprio come se fosse un testo scritto al computer e effetto alla sostituzione che le abbiamo indicato. Un'altra similitudine che si può usare è quella del coltellino svizzero. Perché? Perché può svolgere molte funzioni. Nel suo modello di base, che è quello che è stato messo a punto diciamo tra il 2012 e il 2013, questo coltellino di svizzero possiamo immaginarcelo come dotato di una bussola per identificare la sequenza bersaglio, di una morsa per legarsi al DNA e di un paio di forbici molecolari per tagliarlo. Perché poi nel sito del taglio lì si interviene per effettuare la modificazione. Però poi dal 2013 diciamo ad oggi la tecnica CRISPR si è evoluta, per cui ha imparato a fare nuove cose e anche il coltellino quindi ha guadagnato nuovi accessori. Diciamo che oltre alle forbici ha un'altra funzione che è un po' come se fosse una gomma o una matita per cui può riscrivere il DNA senza tagliarlo e ha guadagnato anche un evidenziatore per cui di fatto è come se potesse sottolineare le sequenze del DNA che a noi interessano. La rapida e continua evoluzione della tecnologia è una delle cose più eccitanti in questo settore perché davvero nel campo delle biotecnologie non si era mai vista uno strumento che si dimostrasse così versatile e così evolvibile nelle mani dei ricercatori. A regalarcelo, oltre all'ingegno di alcuni scienziati di cui poi parlerò, sicuramente è l'evoluzione naturale perché CRISPR si basa su un sistema che si è evoluto nel mondo microbico è contenuto in molti batteri e archeobatteri e serve a questi microorganismi per difendersi dai virus. Quindi di fatto si tratta di una specie di sistema immunitario microbico. Vediamo come funziona. Per farvelo vedere ho preso un estratto di un piccolo firmato di uno degli istituti di ricerca che sono in prima linea nell'editing genomico. Allora, quello che vedete è ovviamente un virus che atterra sulla superficie di un batterio e inietta il suo DNA per infettarlo e poi per replicarsi al suo interno. Il batterio quando viene infittato si deve difendere, quindi lo fa producendo delle piccole molecole di RNA che sono questi arancioni e che formano una specie di identikit del virus. L'identikit viene caricato a bordo di quella proteina di cui parlavo prima, una sorta di proteina sentinella che si chiama Cas9 nella formulazione originaria e quindi la proteina sentinella passa in rassegna l'ambiente cellulare per cercare corrispondenze. Se trova un DNA che corrisponde all'identikit virale allora vuol dire che quel virus è presente e il suo DNA va eliminato per bloccare l'infezione. Quindi questo è il meccanismo naturale su cui si basa il sistema CRISPR. I ricercatori hanno capito che riadattandolo poteva diventare una macchina molecolare a servizio dell'ingegneria genetica e precisione. Come? Beh, basta fornirli al posto dell'identikit virale l'identikit del gene che vogliamo modificare. Quindi delle istruzioni su misura esperimento per esperimento. E questo è esattamente quello che CRISPR fa in laboratorio. Per farvelo vedere ho selezionato un altro video questa volta della rivista Nature Methods. vediamo se parte. Ecco, questa è la sagoma della proteina Cas9. Come vedete è una proteina con dei lobi, dei solchi in cui alloggia la molecola dell'RNA. Poi esistono anche altre proteine che si possono usare al posto della Cas9 ma per ora questa è la più utilizzata. Comunque è una bella famiglia genica molto numerosa che quindi ci dà molte possibilità. Alloggia dunque la sua guida di RNA all'identikit e forma questo complesso che è proprio il complesso CRISPR-Cas9. vedete che si lega al DNA in corrispondenza di sequenze che sono dette sequenze PAM che sono delle specie di siti di ancoraggio e lì inizia a srotolare la doppia elica per cercare la corrispondenza con la sua molecola guida. Quando la trova si attivano i domini enzimatici che adesso vedrete queste due zone che diventano rosa sono le forbici molecolari che effettuano un taglio in entrambi i filamenti. questo taglio consente poi di intervenire perché per esempio nell'applicazione più semplice il macchinario naturale di reparazione cellulare interviene per saldare la lesione introduce qualche lettera casuale questo generalmente ha il risultato di inattivare il gene questo porta a fare un knock out inattivare un gene è un modo che i ricercatori usano per studiarne la funzione perché vedono che cosa cambia nella cellula e nell'organismo però CRISPR si può usare anche in altri modi vedete questo è una CRISPR riadattata perché sono state spente le sue forbici sono state disabilitate invece gli è stato legato un altro enzima che è quello che nella mia similitudine iniziale ho paragonato alla matita e alla gomma perché di fatto invece di tagliare cambia chimicamente l'identità delle basi quindi è proprio un correttore di basi così si chiama e quindi consente di fare interventi di precisione lettera per lettera questo diciamo possiamo definirlo CRISPR 2.0 però la versatilità di CRISPR come dicevo consente di fare anche altre cose ancora sempre nella versione disabilitata quindi con le forbici spente vedete che si spengono i due domini enzimatici si possono legare altri componenti in questo caso sono degli attivatori di trascrizione che si possono legare alla proteina stessa o a una coda peptidica o all'RNA quindi sono diversi modi di organizzare questa macchina molecolare però il risultato è che quando la proteina va nel bersaglio che noi le abbiamo indicato fornendole la guida su misura attira il macchinario di trascrizione e quindi il gene che noi vogliamo studiare viene espresso consentendoci appunto di verificare gli effetti di una sua maggiore o minore espressione oppure quello che possiamo fare invece è legare degli inibitori di trascrizione per cui la Cas9 va sul bersaglio e ostacola l'arrivo del macchinario di trascrizione oppure vedete qui abbiamo legato un'etichetta fluorescente per cui il sistema CRISPR diventa un sistema di imaging che ci consente di studiare la posizione di un gene sul genoma e anche la struttura proprio in tre dimensioni del genoma per cui può davvero fare un sacco di cose altre sicuramente ne imparerà a fare quello che abbiamo visto diciamo finora nei laboratori non è che l'inizio insomma la rivoluzione di CRISPR è appena cominciata quelle che vi ho fatto vedere finora sono delle animazioni quindi delle delle immagini in cui c'è un tocco artistico però invece sono in grado di farvi vedere la tecnologia CRISPR davvero in carne ed ossa potremmo dire anzi diciamo in aminoacidi perché di questo è fatta si tratta di un piccolo miracolo che ha fatto un gruppo giapponese utilizzando una microscopia a forza atomica ad alta velocità che praticamente è costituita da una specie di piccola punta metallica che si muove molto velocemente scandagliando quindi scansionando la superficie delle macromolecole e quindi ricostruendone la fattura tridimensionale per chi si occupa di queste cose vedere la Cas9 cioè il sistema CRISPR in azione davvero è stata una cosa molto emozionante infatti questo video è diventato subito virale eccola qua ecco questo globo dorato è la proteina Cas9 quindi l'ingrediente fondamentale di CRISPR vedete che è legato al filamento del DNA la freccia rosa indica i domini enzimatici quindi le forbici molecolari che si attivano e la freccia azzurra indica il DNA nel momento in cui viene reciso le cose vanno esattamente come i ricercatori avevano immaginato sulla base dei dati sperimentali dei modelli teorici però è emozionante vedere come la scienza fosse riuscita esattamente a prevedere quello che non poteva vedere e poi anche a visualizzare quello che è invisibile quindi questo processo molecolare su cui si basano le speranze di tutto il mondo che utilizza le biotecnologie sia per scopo di conoscenza sia per cercare applicazioni utili io finora ho evitato di dire perché CRISPR si chiama CRISPR intanto si chiama CRISPR ma si legge CRISPR perché questo acronimo è davvero indigeribile è difficilissimo vuol dire brevi ripetizioni palindrome raggruppate regolarmente interspaziate perché perché in realtà si riferisce a quelle sequenze che nei batteri quindi nel sistema naturale servono a organizzare l'archivio in cui il genomico in cui il batterio tiene traccia tiene memoria dei virus che ha incontrato e sconfitto per cui di fatto queste sequenze sono come un libretto delle vaccinazioni del batterio però questo appunto in origine era il sistema CRISPR come sistema immunitario microbico ormai CRISPR è diventato il nome di una tecnologia per cui io mi sono divertita a reinventare questo acronimo in modo che fosse più attinente al significato quello che rappresenta oggi potremmo dire che CRISPR si chiama così perché corregge ritaglia inserisce o inattiva sequenze prescelte a scopo di reparazione o ricerca oppure potremmo scegliere degli aggettivi che ci ricordano le sue qualità allora la C potrebbe stare per chip perché è economica una delle qualità di CRISPR è che davvero costa pochissimo per fare un esperimento con CRISPR bastano pochissime centinaia di euro R perché è riprogrammabile mentre con le altre tecniche di editing genomico bisogna rifare la proteina ogni volta per ogni esperimento qui basta fornirgli l'RNA guida che è una cosa molto facile da fare in laboratorio è innovativa perché come abbiamo visto si sta innovando cambia continuamente è una tecnologia che evolve e impara a fare nuove cose è semplice consente di fare in poche settimane usando solo uno o due persone ciò che prima per farlo servivano consorsi internazionali e mesi se non anni di lavoro per cui davvero ha impresso un'accelerazione pazzesca nei laboratori di ricerca quindi è semplice è precisa quanto precisa su questo si può discutere perché ovviamente in biologia e in medicina nella vita nulla è infallibile quindi nemmeno CRISPR lo è però è sicuramente una tecnologia affidabile è uscito qualche mese fa un lavoro che ne metteva in dubbio la precisione perché evidenziava la presenza addirittura di migliaia di mutazioni fuori bersaglio ma in realtà è stato ritirato perché era un lavoro tutto sbagliato per cui ad oggi possiamo dire che i dati sperimentali ci dicono che assolutamente che CRISPR è molto molto affidabile rivoluzionaria perché come vi dicevo sta cambiando il modo di lavorare nei laboratori sta consentendo ai ricercatori di farsi domande nuove di cercare nuove risposte sta riaprendo filoni di ricerca che si erano chiusi a causa delle difficoltà tecniche negli ultimi decenni e sta consentendo di aprire filoni di ricerca del tutto nuovi per cui è vero che questa parola rivoluzione va usata un po' con le pinze però davvero quello che sta succedendo è un balzo nel mondo delle biotecnologie ecco qua questi sono i ricercatori a cui dobbiamo questo balzo il mio libro si intitola L'uomo creò l'uomo ma in realtà sono state due donne a creare CRISPR e questo mi fa piacere quindi voglio ricordarlo si tratta di una ricercatrice americana che è una biologa strutturale che si chiama Jennifer Doudna Berkeley e una francese che è una microbiologa si chiama Emanuele Charpentier e adesso è in forze al Max Plan in Germania queste due ricercatrici hanno avuto una breve ma fortunata alleanza scientifica che ha portato alla nascita dell'idea che sta dietro a CRISPR perché? perché loro hanno sistemato tutti i tasselli del puzzle hanno capito come funzionava il sistema nei batteri mettendo a posto tutti i tasselli e sono state loro per prime nel 2012 a scrivere su Science che questo sistema poteva ispirare un nuovo approccio alle modificazioni genetiche di precisione questo lavoro quindi pubblicato su Science nel 2012 si può considerare l'atto di nascita dell'era CRISPR accanto a loro però vedete altri due ricercatori che sono quelli che hanno riadattato la ricetta messa a punto da Doudna Charpentier per farla funzionare nelle cellule degli organismi superiori quindi nel giro di pochi mesi si è visto che poteva funzionare anche nelle cellule umane si tratta di Feng Zhang che è un ricercatore di origine cinese naturalizzato americano una specie di enfant prodige dei metodi che sta al Broad Institute che è un istituto che dipende dall'MIT e da Harvard e poi c'è George Church che è davvero uno dei genetisti più influenti visionari che ci siano in circolazione che ha fatto tantissime cose nella sua vita e che ha contribuito quindi anche alla nascita di CRISPR questo diciamo è il quartetto delle personaggi più in vista si dice che si contenderanno probabilmente un premio Nobel perché c'è grande attesa perché venga assegnato un Nobel a CRISPR e sicuramente quantomeno si contendono il brevetto fondante e la tecnologia c'è una contesa in atto tra l'Università di Berkeley e il Broad Institute per l'attribuzione del brevetto fondante tra l'altro questa battaglia legale sta andando in maniera opposta negli Stati Uniti e in Europa per cui vedremo come andrà a finire è molto importante questo aspetto della contese e brevettuali perché la forza di CRISPR sta nel fatto che è stata adottata da migliaia di laboratori in tutto il mondo viene usata liberamente per cui c'è un accesso aperto alla ricerca pubblica è chiaro che se ci fossero una protezione dei diritti di proprietà intellettuale molto stretta questo rischierebbe di tarpare le ali alla tecnologia per ora questo non è accaduto per cui ci auguriamo che non accada stiamo tutti seguendo gli sviluppi in tribunale delle varie contese però la scienza non è un'impresa collettiva non è una lampadina che si accende nella mente di pochi ricercatori per cui anche in questo CRISPR non fa eccezione è una scoperta che poi è diventata un'invenzione che ha una lunga storia a cui in tanti hanno contribuito tutti non li posso ricordare perché sarebbe impegnativo e anche noioso però almeno altre due persone le vorrei ricordare Moïca perché rappresenta tutti quei ricercatori che hanno contribuito alla prima fase della ricerca sul sistema CRISPR nei batteri quindi ricercatori che facevano ricerca di base e che erano impegnati a studiare strani fenomeni del tutto marginali assolutamente considerati poco interessanti da gran parte della comunità scientifica e che invece per la loro curiosità personale e per la loro voglia di studiare uno strano fenomeno uno strano batterio in questo caso era un batterio delle saline spagnole in realtà hanno aperto le porte a una grande rivoluzione biotecnologica questo ci dice quanto sia importante lasciare la scienza libera di esplorare anche strade così apparentemente marginali che non siano di ritorno immediato come applicazione invece sulla destra c'è David Liu che probabilmente oggi è una delle stelle più brillanti del mondo di CRISPR tant'è vero che è stato incluso da Nature tra le dieci personalità più importanti scientifiche del 2017 ed è colui che ha messo a punto il CRISPR 2.0 quello che invece di tagliare modifica l'identità delle singole lettere questa è una cartina che vi illustra i luoghi fondamentali in cui è avvenuta la storia scientifica l'avventura scientifica di CRISPR ricostruire la storia di una grande invenzione o di una grande scoperta è sempre un'operazione molto delicata perché attribuire i meriti non è facile si rischia di mettere in luce il contributo di alcuni e non di altri infatti anche questa cartina diciamo viene fuori da un lavoro che è stato abbastanza contestato si tratta di un articolo di un grande biologo su una grandissima rivista che è Cell però a noi serve più che altro per avere un'idea di come si fa oggi la ricerca nel mondo perché CRISPR è paradigmatico in questo vedete che tappe di questa avventura scientifica sono sparpagliate in tantissimi posti tra i templi della biologia mondiale e luoghi periferici se continuassimo a mettere pallini anche per i passi in avanti che si continuano a compiere quindi per i grandi lavori che determinano l'evoluzione oggi della tecnica CRISPR dovremmo mettere un pallino anche sull'Italia quindi questo è bello dirlo perché l'Università di Trento un paio di mesi fa è stata messa a punto una nuova variante di CRISPR una variante di precisione che si chiama Evocast 9 per cui ci siamo guadagnati un pallino sulla mappa di CRISPR mondiale ne siamo orgogliosi a cosa serve CRISPR? a tantissimo quasi a tutto in teoria potenzialmente perché una delle caratteristiche di CRISPR è che è virtualmente universale sta funzionando in tutti gli organismi in cui viene usata io che ne seguo le applicazioni giorno per giorno l'ho vista applicare alle formiche alle farfalle alle api oltre che ai topi alle scimmie al grano ai pomodori da ultimo l'ultimo lavoro che ho visto ieri ai coralli per cui davvero mentre con l'ingegneria genetica era molto difficile applicare questa tecnica da alcune specie invece era più facile in altre CRISPR sta funzionando davvero quasi ovunque sembra quasi una bachetta magica per cui ci si possono fare tantissime cose a livello industriale forse l'applicazione più interessante che si sta cercando di perseguire tra l'altro ci si sta dedicando Craig Venter insomma che conoscete come uno dei due protagonisti della corsa per sequenziare il DNA umano produzione di biocarburanti dalle alghe ma sicuramente le applicazioni in biomedicina per ora sono quelle che hanno avuto la maggiore attenzione le cose fantastiche che si possono fare con CRISPR per la biomedicina intanto è perché ci consente di studiare le basi molecolari delle malattie perché ci consente di inattivare gene accenderli spegnerli evidenziarli cioè è praticamente uno strumento fantastico al servizio della post genomica noi abbiamo la sequenza del genoma e dobbiamo capire cosa fanno questi geni e questo possiamo farlo molto molto bene con CRISPR possiamo sviluppare modelli animali migliori per studiare le malattie finora si usavano si usano poche specie e quando bisogna modificarne più geni perché molte malattie sono multigenetiche è un'impresa ardua lunga costosa con CRISPR questo è diventato più facile ed è diventato più facile anche modificare specie che prima erano così refrattarie insomma che invece sono molto importanti per studiare malattie che col topo non si studiano bene per esempio una malattia del sistema nervoso centrale quindi da questo punto di vista ha aperto davvero delle strade CRISPR è una grande speranza per poter inaugurare una nuova stagione anche nel campo della terapia genica perché nonostante rimangano alcune difficoltà che sono quella di voicolare i componenti dentro la cellula che siano quelli di raggiungere le cellule che noi dobbiamo curare non sempre gli organi che vogliamo curare sono facilmente accessibili per cui assolutamente non è tutto facile ci mancherebbe però per quanto riguarda la parte della modificazione genetica beh CRISPR offre dei vantaggi perché nella terapia genica classica quello che si fa è prendere il gene sano e affiancarlo a quello malato che resta lì con CRISPR si corregge il gene malato e si può quindi lo si può lasciare sotto il suo promotore quindi se ne può regolare in maniera molto più raffinata anche l'espressione quindi questo potrebbe anche ampliare il numero delle malattie che potrebbero si può tentare di curare con questo approccio le prime sperimentazioni sono già state avviate e nel campo dell'oncologia proprio per cercare di potenziare la risposta immunitaria e insegnare diciamo alcune cellule immunitarie che sono i full CTT a combattere meglio i tumori però siamo appunto ai primissimi stadi della sperimentazione clinica e questo va detto con grande chiarezza poi vedremo anche altre applicazioni di tipo medico più futuristiche qui diciamo sono quelle un po' classiche ho messo naturalmente ci sono anche le applicazioni di tipo vegetale CRISPR è interessante anche per quanto riguarda questo filone di ricerca infatti qui ho messo un manifesto che è stato preparato da genetisti italiani dalla società italiana di genetica agraria con il patrocino della federazione italiana delle scienze della vita perché si spera che CRISPR possa consentirci di riaprire un filone di ricerca che si è bloccato a causa delle polemiche sugli OGM perché perché se invece di spostare geni da una specie all'altra si corregge semplicemente qualche lettera sul DNA di una specie vegetale il risultato chiaramente non è transgenico quello che otteniamo è un cambiamento simile a una mutazione naturale come quelle che avvengono in tutti gli organismi in natura anche noi in questo momento noi siamo entrati in questa sala con un DNA usciremo con qualche mutazione sicuramente e perché perché se non si modifica l'identità genetica della cultivar questo protegge anche quello che è il valore diciamo legale del made in Italy che è quello appunto dell'identità legale delle cultivar e quindi questo consentirebbe di risolvere alcuni problemi della nostra agricoltura senza rinunciare alle denominazioni di origine e cose del genere per cui esiste una partita in corso molto importante a livello regolatorio bisognerà vedere se l'Europa anche poi l'Italia deciderà di normare le piante editate come OGM oppure non come OGM è una partita che si sta svolgendo proprio adesso e ne vedremo i risultati nei prossimi mesi probabilmente entro la fine del 2018 eccoci qua sono arrivate alle applicazioni più avveniristiche editing della linea germinale xenotrapianti e gene drive editing della linea germinale parlavo prima di terapia genetica nella sua variante somatica si tratta di andare a modificare il DNA nelle cellule del tessuto malato che io voglio guarire quindi quello che faccio riguarda solo l'individuo su cui sto operando se invece la modificazione genetica viene attuata a livello embrionale oppure di progenitori delle cellule uovo degli spermatozoi quindi se questa modifica riguarda la linea germinale allora non riguarda più solo l'individuo che viene trattato ma anche tutta la sua discendenza e quindi questo sicuramente pone dei problemi di tipo di sicurezza maggiore di riflessione anche di tipo bioetico diverso questo tipo di esperimenti è già iniziato è stato fatto in Cina negli Stati Uniti in Gran Bretagna in Svezia anche se in Svezia ancora non c'è una pubblicazione per cui non sappiamo di preciso cosa abbiano fatto gli svedesi però comunque in tutti questi casi quello che è stato fatto è stato modificare in embrioni i primissimi stadi di sviluppo dei geni interessanti dal punto di vista scientifico perché per esempio sono coinvolti in gravi malattie genetiche oppure interessanti perché determinano possono determinare problemi nello sviluppo embrionale quindi siamo ancora in un campo strettamente scientifico non ci siamo avventurati in quei timori in quei scenari distopici di children design che insomma un po' agitano la bioetica le fantasie le paure di tante persone la cosa importante da ricordare che mai e poi mai questi embrioni sono stati trasferiti poi in utero quindi non è mai stata avviata nessuna gravidanza sono sempre stati fermati allo sviluppo degli embrioni nel 14esimo giorno per cui diciamo per il momento è una ricerca che si sta svolgendo in maniera molto controllata non c'è nessun far west in questa fase almeno anche se i ricercatori si sono subito messi in moto preoccupati appunto di controllare di regolamentare il settore in maniera tale perché ovviamente se ci fosse una fuga in avanti di qualcuno di qualche gruppo un po' spregiudicato questo getterebbe discredito sull'intero settore per cui è assolutamente uno scenario che preoccupa tutti xenotrapianti gli xenotrapianti sono un settore che si era fermato negli anni 90 aveva tanto fatto sperare poi si era fermato perché pone moltissimi problemi tecnici CRISPR ha riaperto questo filone si sta utilizzando CRISPR per produrre maialini il cui DNA è stato ripulito dalla presenza di virus porcini che potrebbero rappresentare un rischio e si sta lavorando anche per modificare i geni che sono implicati nel rigetto con l'obiettivo di produrre organi animali utilizzabili sull'uomo per il trapianto perché ovviamente la richiesta di organi è molto più elevata dell'offerta le liste d'attesa sono lunghe e quindi la possibilità di utilizzare anche solo come trapianti ponte degli organi animali sarebbe davvero rivoluzionaria c'è un ultimo filone di ricerca che secondo me è il più ambizioso di tutti quello con la posta in gioco più alta di tutti e che tra l'altro ha anche delle basi in Umbria per cui mi piace ricordarlo ed è il settore dei gene drive dunque proviamo a spiegare nel mondo mendeliano che è quello che regola la genetica classica tutti quanti siamo portatori di una doppia copia di ogni gene per cui se io ho due copie diverse metà dei miei figli ne riceveranno una per esempio quindi l'eritabilità è del 50 e del 50 con i gene drive sono una specie di stratagemma basato su CRISPR si può fare in modo che la variante genica che mi interessa venga ereditata non dal 50% dei miei discendenti ma virtualmente dal 100% per cui diciamo sono degli acceleratori di diffusione dei geni e potrebbero essere utilissimi non applicati all'uomo perché i tempi per il loro utilizzo sarebbero lunghissimi e non avrebbe alcun senso un tipo di intervento del genere ma su specie come le zanzare che trasmettono malattie il maggior killer dell'umanità è la malaria non siamo riusciti a bloccarlo con gli strumenti convenzionali come le zanzariere come i farmaci il vaccino non c'è ancora miete centinaia di migliaia di vittime l'anno e tiene sotto scacco un intero continente condannandolo sotto sviluppo si sta tentando di giocare anche la carta genetica per provare a vincere questa battaglia che davvero sarebbe epocale cambierebbe i destini di un continente come? Modificando le zanzare in maniera per esempio da renderle resistenti al plasmodio che è il patogeno della malaria oppure in maniera tale da far nascere solo maschi che non pungono non possono trasmettere la malattia oppure per esempio per rendere le femmine sterili sono diverse strade che si stanno studiando c'è un grandissimo progetto finanziato dalla fondazione Gates in cui è coinvolto un ricercatore italiano che è Crisanti lavora principalmente a Londra ma intorno a questo alla sua expertise si sono organizzate le collaborazioni qua in Umbria per cui a Terni esistono alcune delle gabbie climatizzate per studiare il comportamento delle zanzare modificate più sofisticate del mondo io ho avuto la fortuna di visitarle praticamente riproducono l'andamento della temperatura della luce dell'umidità che c'è negli ambienti tropicali e così si possono studiare il comportamento delle zanzare editate e vedere come cambiano le loro abitudini riproduttive eccetera se tutto andrà bene come si spera poi si passerà a studiarli in un ambiente più vasto ma comunque contenuto in delle biosfere e poi chissà insomma se si coalizzerà intorno a questa tecnologia un consenso sociale politico internazionale perché ovviamente si tratta di decisioni molto importanti che richiedono via libera di tante autorità e il coinvolgimento anche delle popolazioni locali si proverà ma insomma si parla diciamo di fra vent'anni insomma possiamo immaginarlo come traguardo di provare a portare questa tecnologia in campo aperto ovviamente le questioni sono tante appunto etico sociale ecologico eccetera però davvero insomma si sta procedendo con grande cautela e con un atteggiamento molto proattivo e di trasparenza e si sta cercando di avere un dibattito plurale su questa tecnologia vedete per esempio questo è un articolo che è uscito un paio di settimane fa su Nature che addirittura propone la nascita di un osservatorio globale sull'editing qui si parlava di editing germinale ma insomma un'idea del genere sarebbe abbastanza difficile francamente da realizzare pone sicuramente anche delle insidie eccetera però è la dimostrazione diciamo dell'impegno che la comunità scientifica sta cercando di avere per avere un dibattito e una governance di questa nuova tecnologia che sia una governance aperta e trasparente guardate qui tanto per farvi un esempio i rapporti della comunità scientifica internazionale sull'editing genomico sono già oltre 60 e questo è un lavoro pubblicato sul CRISPR Journal e non contano quelli italiani io ne conosco almeno 4 italiani per cui sicuramente secondo me in tutto il mondo arriveremo già a un centinaio ecco non tutte le promesse di cui vi ho parlato oggi si realizzeranno perché la scienza funziona così ci si entusiasma per le grandi idee si pensa di poterle applicare a tutto poi magari i risultati tardano ad arrivare per cui si passa dal picco delle aspettative gonfiate magari alla delusione però diciamo che nell'andamento classico della psicologia che accompagna le grandi invenzioni in biomedicina poi dopo siccome la scienza poi i risultati piano piano li tira fuori si torna diciamo a apprezzare i risultati di una certa tecnologia noi adesso con CRISPR siamo sicuramente sul picco delle aspettative gonfiate siamo molto eccitati vediamo grandi cose non tutte si realizzeranno però davvero la posta in gioco è davvero a tanto alta in tanti campi questo è un esempio della grande attenzione mediatica che ha ricevuto CRISPR un piccolo campionario delle copertine che ha avuto alcune belle altre decisamente esagerate speriamo insomma che i toni non vadano troppo sull'enfasi perché questo è un errore questo addirittura è il primo film su CRISPR in sala in questi giorni è un film di fantascienza con animali editati che poi diventano enormi furiosi e distruttivi insomma comunque è un film divertente che comunque dà l'idea di come CRISPR stia uscendo dagli ambienti specialistici come dicevo non so quanti di voi conoscessero la parola di CRISPR prima di sedervi qua e già voi siete un pubblico molto selezionato l'uomo della strada se avessi suonato i campanelli nel mio palazzo chiedendo scusi sa cos'è CRISPR io credo che nessuno mi avrebbe detto qualcosa ecco molte persone iniziano imparando la parola CRISPR al cinema in questi giorni e speriamo che non se ne facciano un'idea troppo sbagliata perché la fantascienza è così e anche divertente che sia così per carità dietro all'enfasi però c'è la sostanza e questo io ci tengo tanto tanto a ribadirlo perché se voi guardate io questo è un un grafico che ho fatto prendendo i dati su PubMed che praticamente è l'archivio dei paper scientifici peer reviewed quindi quelli con tutti i crismi pubblicati dalle riviste che pubblicano i lavori originali e guardate la crescita del numero di paper quindi di lavori scientifici che usano CRISPR negli anni 2012 si affaccia all'idea 2013 viene adattata alle cellule degli organismi superiori da lì tutti iniziano a usarla schizza in alto davvero in maniera esponenziale non passa una settimana senza che siano usciti 5-6 lavori importanti su CRISPR quindi è davvero qualcosa a cui non avevamo mai assistito forse solo la PCR è paragonabile come livello di impatto e di scossa che ha dato nei laboratori per questo diciamo che siamo ancora nel vivo nella fase di grande spinta di questa tecnologia e per questo io oltre a scrivere appunto in cui racconto la storia le prospettive le problematiche dell'editing genomico di CRISPR continuo a seguirne gli sviluppi giorno dopo giorno settimana dopo settimana in un blog che si chiama CRISPR mania che è anche su facebook e twitter per cui se siete curiosi di vedere cosa succede potete seguirmi lì e così ho finito grazie bene credo che cominciamo con il professore Ferroni prego ho una domanda che comunque non vuole arrivare a una questione di finanziamento l'esempio delle zanzare è molto bello ma è molto complicato cioè l'esempio più semplice sono i topi di un isola se tu vuoi togliere i topi di un isola riesci a modificare la percentuale di maschi e femmine anche di poco in poche generazioni a rispondere al problema non era questo però il punto è quale intanto legame quale quale legislazione chi si occupa cioè se io ho nato questa operazione nell'isola a tale età ce n'è una dove credo che si voglia fare che è Floriana nelle Galapagos chi decide cioè capisci cioè in quale tribunale si va in quale legge con quale legge si parla con quale politica si parla beh in realtà l'applicazione per scopi di conservazione che quindi diciamo per l'eliminazione degli invasori biologici è considerata addirittura più controversa di quella per eliminare le malattie diffuse da vettori come le zanzare perché beh nel caso della malaria hai centinaia di migliaia di morti ogni anno per cui accidenti se bisogna guardare i rischi e i benefici i benefici sarebbero veramente enormi nel campo della conservazione i benefici ci sarebbero perché oggi per tenere sotto controllo gli invasori biologici si usano veleni sostanzialmente i veleni fanno uccidono anche specie diverse da quella che tu stai cercando di contenere per cui assolutamente avrebbe senso da un punto di vista di rischi e benefici però è un tipo di applicazione intanto più lontana nel tempo perché oggi come oggi i gene drive sono stati applicati e si è riusciti a farli funzionare nei moscerini nel lievito e nelle zanzare quindi l'applicazione dei mammiferi è qualcosa a cui si sta lavorando ci lavorano diversi gruppi di ricerca però è ancora diciamo del tutto di là da venire non esistono i topi con i gene drive oggi come oggi esistono programmi di ricerca addirittura finanziati dal DARPA dall'agenzia americana legata al dipartimento della difesa per mettere per creare degli antidoti ai gene drive dei gene drive locali estremamente reversibili eccetera con molti diciamo livelli di sicurezza ridondanti per cui per ora si è nella fase ancora in cui si stanno tanto bisogna vedere se funzionano nei mammiferi e quali tipo di gene drive potrebbe essere adatto a una cosa del genere oggi non esiste un quadro regolatorio di fatto funzionale esistono per esempio delle accordi internazionali sulle armi biologiche degli accordi internazionali protezione della biodiversità ma insomma sono tutte cose che sono state scritte prima che arrivasse tutto questo che sicuramente andranno aggiornate per questi sviluppi però devo dire che l'approccio proattivo c'è perché proprio su Science qualche mese fa è uscito un solenne impegno da parte di tutti i finanziatori ricerca sui gene drive dal Tata Trust indiano a Bill Gates all'inserno francese che stanno lavorando a documenti pubblici per trovare delle strade di condivisione per arrivare per mettere in piedi un cammino che possa portare a una legislazione anche internazionale quindi siamo all'inizio di questo cammino però il tempo c'è nel senso che non è che prima di vedere dei roditori coi gene drive alla regala pagos insomma semmai si farà perché io ne dubito insomma voglio dire 30 anni sono già insomma sono forse pochi ne passeranno di più insomma per cui il tempo c'è non siamo assediati da CRISPR voglio dire stiamo già lavorando su tanti fronti cosa che invece che un'altra tecnologia in passato non si è fatto e si sono imparati gli errori del passato di quando sono arrivate le tecnologie sono state catapultate sull'opinione pubblica quando erano già belle pronte e magari sono state rifiutate per cui adesso se ne inizia a parlare addirittura prima ancora che i topi editati esistano insomma per cui speriamo che questo oltre a essere un esperimento di io dico sempre di genetica di evoluzione i gene drive sono un esperimento sociale perché davvero stanno diventando un banco di prova anche dal punto di vista del public understanding della comunicazione del rischio della governance delle innovazioni per cui vedremo cosa saremo capaci di fare ancora non lo so le premesse ci sono secondo me prego collega si prendi il microfono magari grazie volevo chiedere a proposito dell'acronimo no le ripetizioni se c'è un significato qual è il significato biologico così semplicemente se lo conosce del fatto che i microbi posizionano su queste sequenze ripetitive no se ho capito bene le sequenze virali sostanzialmente questa è la domanda teorica la domanda pratica invece è sulle so che le università cinesi sono state le prime a utilizzare questa tecnica per curare anche malattie come per esempio i tumori al polmone leggevo non mi ricordo dove per provare a curare volevo sapere se magari lei è molto più informata di me se ci sono già dei risultati in questo senso grazie ma sul perché le sequenze siano fatte proprio così mi chiede questo non non lo so nel senso che non si sa è come se fossero degli archiviatori di sequenze e sicuramente ha un senso dal punto di vista biologico che c'è scritto palindrome ma in realtà non sono proprio palindrome essere precisi sono quasi palindrome allora comunque quando uno vede una sequenza quasi palindrome è portato a pensare che questo abbia un senso nel senso che dal punto di vista molecolare consentirà di fare dei giochi che magari creare forcine quindi strutture tridimensionali però è tutto un settore ancora così da indagare quindi dal punto di vista della biologia della ricerca di base c'è ancora tanto tanto da capire sull'evoluzione di CRISPR come sistema biologico e sulla sua organizzazione per quanto riguarda l'esperimento cinese si parla di 86 pazienti arruolati già in Cina non ci sono pubblicazioni ufficiali c'è stata una bellissima inchiesta del Wall Street Journal che addirittura ha scovato sperimentazioni che non erano neanche elencate nel grande database quello americano dei trial sperimentali per cui chissà la qualità di queste sperimentazioni alcune saranno fatte bene altre probabilmente saranno fatte male i risultati sono work in progress che però su cui appunto abbiamo solo dati giornalistici quindi io direi di sospendere il giudizio ma comunque per ora secondo quanto dichiaravano i cinesi stessi quindi non una fonte indipendente al Wall Street Journal i risultati in qualche caso erano incoraggianti diciamo però con molta 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 cautela ecco prego parliamo di genetica un attimo nel batterio l'RNA guida da dove salta fuori? l'RNA guida salta fuori proprio dalle sequenze che lui ha archiviato cioè quando viene infettato praticamente si fa una copia del genoma del virus e l'archivia in mezzo alle sequenze CRISPR e diventa il suo libretto le vaccinazioni per cui poi ha questi identikit di suo che usa per andare a pattugliare è così il virus poi c'è tutta una battaglia alla guerra delle armi e delle contromisure insomma per cui cambia la sua sequenza eccetera per cui sicuramente è una rincorsa si 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 cosa non lo so questo bisognerebbe chiedere alla Charpentier non so se ci sono altre domande che lei sappia ci sono riscontri di sperimentazioni di questo metodo CRISPR in campo militare e nello specifico nel campo delle armi batteriologiche se ci sono sono secretate nel senso che non si sanno però quello che so che c'è un interesse del dipartimento americano più che altro a trovare delle contromisure questo sì per cui degli antidoti nel caso arrivasse venisse usata questo scopo una che ne so qualcosa che sia dotato di gene drive per esempio però devo dire che per esempio è uscito un articolo di Foreign Policy che quindi proprio di queste cose si occupa e che secondo me coglieva nel giusto cioè il pericolo che queste tecnologie vengano usate come armi biologiche è tutto sommato forse sovrastimato nel senso che per esempio gruppi terroristici voglio dire se dobbiamo andare a fare una storia della guerra biologica davvero troviamo pochissime cose recenti sono cose molto antiche i terroristi lo vediamo hanno un modo superandi che si basa molto più su cose low tech tipo lanciare un furgoncino sulla folla che non mettersi in laboratorio con CRISPR e con l'editing genomico se proprio volessero fare un attacco biologico il mondo è pieno di microorganismi cattivissimi naturali che si possono prendere e utilizzare per cui sicuramente è un settore su cui stare attenti su cui si vigila su cui c'è un'attenzione soprattutto negli Stati Uniti e che però secondo me non è una preoccupazione primaria nel senso che sì insomma il cattivo di turno ci può stare insomma ma non ha bisogno di CRISPR per dimostrare quanto è cattivo secondo me ecco a cosa mi riferivo al fatto che durante la seconda guerra mondiale sono state sperimentate ancorché non usate delle armi batteriologiche vale a dire ad esempio il botulino che potrebbe tranquillamente sostituire una bomba atomica in quanto ammazza che stanno intorno e dopo 24 ore c'è stato gli effetti si può tranquillamente passare senza nessuna controindicazione mi riferivo quando mi riferivo a quello agli usi militari a questo tipo a questo scopo a un impiego bellico massivo da parte di nazioni in caso di conflitto che chiaramente poi finirebbe col coinvolgere inevitabilmente anche i cosiddetti civili perché la guerra coinvolge tutti però insomma quando lei usa per esempio il botulino il botulino a coppa tutta a fuorigno e dopo due giorni possiamo passare senza avere nessuna indicazione o controindicazione tranquillamente attraverso fuorigno cosa che con una bomba atomica però io credo che se non è stato fatto finora perché in realtà è molto più difficile così farlo cioè esiste tutta una parte cioè si può anche andare a prendere il microrganismo e modificarlo magari per cercare di fare in modo che si trasmetta più facilmente eccetera ma poi c'è tutto un problema di armarlo cioè di renderlo utilizzabile come arma che comunque non è banale cioè se finora non è stato fatto è perché credo che ci siano delle difficoltà obiettivamente tecniche che rendono altri tipi di armi forse più facili da usare più efficaci spero di non essere smentita ecco bene ricordate sul terreno del uso di CRISPR circa l'uso nella connessione dell'emofilia e delle leucemie ci dà qualche dato up to date grazie sì sì beh sono usciti tantissimi lavori di terapia genica sperimentale sull'animale quindi che utilizzano CRISPR su talassemia leucemia distrofia retinite pigmentosa X fragile davvero la lista è lunghissima i trial sperimentali già in Europa qualcuno dovrebbe partire quest'anno però appunto stanno aspettando l'autorizzazione per cui di fatto l'unico trial che sta già reclutando a parte la Cina negli Stati Uniti è sempre per un'applicazione di oncologia quindi una strategia di potenziare il sistema immunitario per alcuni tipi di tumori del polmone si procede con grande cautela perché nel settore della terapia genica ci sono stati grandi fasi di entusiasmo ma anche grandi delusioni nei decenni passati con un paio di incidenti che hanno bloccato il settore della terapia genica per dieci anni per cui si vuole procedere con grande cautela però ci si aspetta il via libera dei primi tragli europei nel 2018 bene io so che la dottoressa deve anche partire ringraziamo naturalmente Anna Meldolesi per la chiarezza dell'esposizione e grazie a tutti e la festa di filosofia continua di scienza di filosofia continua grazie